Come creare un anellino con il DAS In realtà non lo so nemmeno io, ma oggi ci proviamo insieme Come prima cosa ho preso un pezzo di DAS Inizio facendo un bigoletto più omogeneo possibile Ok, ora ne taglio un pezzettino Faccio il test della lunghezza sul mio dito Ok, ora è perfetto per me Con un righello piatto lo schiaccio un po' Per farlo diventare un po' più squadrato Cioè guardate voi stessi la perfezione Dato che mi deve portare fortuna voglio disegnarci una coccinella su una foglia Ok ragazzi, terminata Adesso devo solo aspettare che si asciughi e poi la dipingo Mi raccomando non scappate Seguitemi perché appena si asciuga facciamo la parte 2 e vediamo come esce